Bella a tutti ragazzi, prima di iniziare volevamo dirvi giusto giusto un paio di cose Per prima cosa volevamo consigliarvi un canale, ovvero Brawl Shorts 21, link in descrizione Che è un canale di Brawl Stars, che a noi personalmente piace davvero molto E consigliamo di iscrivervi Secondo, i trick stanno per finire, ce ne sono rimasti soltanto un paio E quindi appunto non abbastanza per soddisfare video di un mese e forse addirittura anche per una settimana Quindi avendo appunto superato la soglia delle 4500 pop Stavamo pensando di portare uno o due video al giorno riguardanti la Liga delle Stelle Sempre rispettando i pianti ogni vari giorni dispari con un super video sondaggio la domenica Fateci sapere cosa ne pensate più sotto nei commenti E ragazzi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Perché mancano soltanto 6 iscritti ai 200 E detto questo, adesso vi lasciamo al video Bello I think it's time to talk Oh yeah I think it's time to talk Oh yeah Be true to one with one Oh yeah Oh yeah I think it's time to talk Grazie a tutti 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 Grazie a tutti